Un saluto da Dr. Palmas, ti mostro un rifacimento completo della dentatura di una paziente col nostro sistema bocca bionica, denti fissi che sono stati creati con impianti dentali e con i robot. Questa era la situazione di partenza, un sorriso come vedi assente, non c'era più il sorriso, i denti erano tutti consumati, collassata la dimensione verticale, non c'era quasi più osso, nella mandibola è stato veramente difficile andare a risimulare la dentatura. Abbiamo dovuto estrarre tutti i denti in quanto erano ormai con lo stadio terminale di parodontite. Questi sono già i denti provvisori dopo la chirurgia. Una volta passato il tempo dopo che gli impianti sono integrati, questo è lo schema grafico di come abbiamo posizionato gli impianti dentali, una volta aspettati i 6 mesi, canonici di integrazione di questi impianti, abbiamo sostituito l'arcata provvisoria con delle arcate definitive. Questa era la situazione di partenza sulla sinistra, i denti completamente in espulsione, sul lato destro vedi gli impianti dentali che sono stati posizionati a reggere le arcate prima provvisorie e poi definitive. Era un caso molto complesso, abbiamo creato prima una preview di quello che era il display del sorriso che sarebbe dovuto essere mostrato. Abbiamo mostrato alla paziente il risultato, una volta accettato abbiamo creato i denti artificiali. In questo caso abbiamo proceduto con delle repliche di denti reali perfetti in zirconio, quindi con la linea superior, denti singoli in zirconio che vengono posizionati poi su delle strutture in titanio. Denti che vengono integrati nel sorriso con anche la simulazione delle gengive, è molto importante andare a simulare le gengive, soprattutto quando un paziente ha perduto i denti per parodontite, altrimenti c'è il rischio che i denti non si vedano. In questo caso abbiamo optato per la linea superior, la paziente era molto giovane, aveva ancora tanti anni davanti nella sua vita e quindi era opportuno andare a utilizzare dei materiali ultra duraturi che dessero la possibilità alla paziente di non dover poi tornare dal dentista gli anni futuri a rifare lavori.